Erbe tintore, enne, pastelle vegetali, questi trattamenti non sono sicuramente sinonimo di servizi facili. Per Anna è stata la prima applicazione. Le paure più frequenti da riscontrare sulla cliente che si approccia a questo tipo di scelte, di cambiamento, è proprio quella di chiedersi ma mi piacerò? Cambierà tantissimo la mia base? Riuscirò a mantenere il colore riflesso mio naturale, come in questo caso un riflesso tricosiderinico con questa melanina meravigliosa tipica del biondo irlandese. Anna la voleva mantenere, voleva solamente coprire e camuffare i suoi capelli bianchi. Ce l'abbiamo fatta. Guardate che bel risultato. Tagliando con diverse radici e fiori la Lausone in Hermes si riesce ad ottenere questo bellissimo effetto biondo irlandese, biondo mele, quindi non troppo aranciato. Caldo, ovviamente, con degli splendidi riflessi al sole. È così lucido perché abbiamo usato un lavaggio idratante con dei burri e degli oli vegetali. Servizio tipico che si utilizza nel mio salone dopo la colorazione erborea per ridratare e ritornare elasticità alla cute.